TecFood presenta in anteprima ciocco kebab, una innovazione a livello mondiale legata al kebab di cioccolato. Quindi partendo dall'originale ricetta del cremino classico piemontese si è sviluppato il business del kebab di cioccolato. L'Inea nasce dalla possibilità di offrire all'interno di attività commerciali già esistenti l'opportunità di realizzare un prodotto nuovo, un prodotto dolce per soddisfare l'esigenza dei consumatori. TecFood si propone al pubblico italiano con delle novità ma anche con i suoi tradizionali prodotti e cavalli di battaglia. Le crepe in primo piano, il ciurro, le cialde, il waffle, le goffre ma anche tantissimi prodotti salati che vanno dal kebab all'hot dog, al fritto, alla piadina e seguire con tutta una serie di proposte salate da offrire ai propri clienti. Innovazione per diversificare all'interno dei locali, per offrire l'opportunità a chi gestisce un punto vendita di differenziarsi dalla concorrenza. I nostri tre motti fondamentali sono aggiungere per incrementare e diversificarsi.